...composto e arrangiato da lui, una luce nel blu, lui è Edson e canta Momenti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono momenti che ti gira intorno, il mondo è veloce, sento ancora il bisogno di te. Ma c'è stato un momento che ho sentito spezzare il mio stupido cuore, non si riusciva a fermare. Perché io ci voglio provare se ci posso riuscire a trovare il coraggio di amare. Perché è bello sbagliare, perché è bello sentire il tuo cuore che batte forte. Se ti chiamo, se ti chiamo, ci saranno momenti in cui sarei triste, perché nel silenzio non senti la voce che c'è. Ed abbiamo parlato e forse per ore ed abbiamo pensato le solite cose. E se ti fidi di me, io ci voglio provare se ci posso riuscire a trovare il coraggio di amare. Perché è bello sbagliare, perché è bello sentire il tuo cuore che batte forte. Se ti chiamo, amore, amore, amore. E poi adesso è il momento di Domenico Marchese.